Quattro matrimoni wedding chapel Vuoi tu Angelo prendere Felicia come tua legittima sposa? Sì, lo voglio! Oh! Bibiana, non puoi forzarlo a sposarti. Con il potere conferitomi da quattro matrimoni, vi dichiaro marito e moglie! Re, moglie, moglie e moglie, Giulia. Baciatevi! Non perderti i nuovi episodi di Quattro Matrimoni. Domenica alle 21.15 su Sky. Non perderti i nuovi episodi di Quattro Matrimoni. Non perderti i nuovi episodi di Quattro Matrimoni. Non perderti i nuovi episodi di Quattro Matrimoni. Sì, lo voglio!